salve ragazzi e bentornati sul canale sono due anni che non posto un video ragazzi è stata una lontananza forzata purtroppo perché case lavorative ovviamente ho cambiato lavoro ho cambiato casa ho cambiato posto cambiato un sacco di cose mi sono dovuto attrezzare impara cose nuove faccio sempre il programmatore non vi preoccupate però tutti questi cambiamenti ovviamente mi hanno impedito di seguire youtube è purtroppo è così la vita è così ho già cercato di riprovarci varie volte ma cercavo di registrare qualcosa ma poi non avevo il tempo e quindi lasciavo così ho fatto qualche tentativo durante questi mesi ho detto va bene provare registra qualcosa vediamo se c'è il tempo ma alla fine non ci riuscivo mai adesso per fortuna sembra che la cosa si sia un po tranquillizzata al lavoro quindi dovrei avere un pochino di tempo in più e allora mi sono detto porca miseria riprendiamo un attimo in mano sto canale che l'abbiamo abbandonato e sono qua a postare il primo video dopo circa due anni come voglio riprendere in mano il canale sicuramente non partirò subito alla grandissima con live e 57 video al giorno però ho deciso intanto di riprendere la mano con minecraft che comunque non ci gioco da una vita mi sono perso tutti gli aggiornamenti tutto quello che è successo non so nulla e quindi ho detto quale modo migliore per riprenderci la mano se non iniziando una bella serie di sopravvivenza allora ho impostato l'ultimo snapshot che non ho idea di che cosa contenga ovviamente quindi inizieremo questo percorso insieme mettendo il nome al nostro mondo e non so come lo chiamiamo però penso che come nome il ritorno secondo me ci può stare ok modalità di gioco sopravvivenza difficoltà normale ma stavolta voglio attivare pure questa robetta perché ci sono i bundles che mi piacciono troppo e io li voglio poi ci stanno tutte le new feature di 1.21 che secondo me sono carine quindi le impostiamo e possiamo creare il nuovo mondo qua lasciamo il mondo di default more non ce ne frega niente e quindi andiamo a creare questo nuovo mondo allora ragazzuoli i miei progetti per il futuro sono quelli di riprendere in mano il canale sicuramente piano piano quindi incomincerò con questa serie di sopravvivenza fatta molto scialla quindi non sarà una serie i video non saranno montatissimi tagliatissimi musichetti sottofondo no facciamo una cosa molto tranquilla anche perché in questo momento non ho ancora il tempo di fare tutto quello che serva però piano piano andremo migliorando sicuramente poi ho intenzione di riprendere anche le live ma non vi sto dire quando e nei miei progetti futuri c'è anche quello di rimettere in piedi il server molti di voi mi hanno scritto che bello facevamo le live ci divertivamo un sacco di cose infatti me li sono andati un attimino a rileggere tutti i commenti mi ha fatto molto piacere chissà dove siete cosa fate adesso visto che sono due anni che non ci vediamo io spero che questa ripresa del canale vi faccia piacere a me sicuramente fa molto piacere anche perché voglio dire la verità youtube mi è mancato un po diciamoci diciamoci la tutta quindi non ci perdiamo in chiacchiere e iniziamo questa nuova avventura insieme allora siamo in questo mondo e io direi subito di fare le cose classiche cioè morire non è vero allora cerchiamo un po di legno perché in questa serie di sopravvivenza io vorrei tanto a parte esplorare tutte le novità che ci sono negli aggiornamenti di minecraft che io mi sono perso e da quello che ho letto in giro ce ne sono un bel po ma soprattutto vorrei rendere questo un momento abbastanza rilassante di chiacchiere tra me e voi quindi infatti pensavo di pubblicare i video la sera in modo che sicuramente tutti quanti hanno la possibilità di vederlo stanno a casa perché pubblicarli dopo pranzo c'è chi fa orario prolungato chi invece c'ha da fare chi va in palestra loro detto vabbè li pubblico la sera così sicuramente bene o male tutti hanno quei 10 15 minuti tempo per vedersi la puntatina e quindi andiamo avanti e la prima cosa da fare come dicevo è appunto quello di raccogliere un po di legno facciamo i primi attrezzi certo che devo dire la verità non è che sto sponato proprio nel bioma della vita cioè praticamente qua non c'è niente qua c'è il ghiaccio che comunque prendiamoci questo legnetto iniziamo a prendere un attimino eccolo qua le nostre plank ci facciamo una bella crafting table come al solito e iniziamo con i primi attrezzi rudimentali cioè pala e piccone non è che si può fare altro quindi facciamo così mi ricordo ancora qualche crafting e diciamoci la verità quelli più elaborati no non me li ricordo minimamente però alla crafting table ancora ci arrivo ok rompiamo questo e vediamo dove siamo capitati non è un bellissimo posto e io infatti non andrei qui perché c'è solamente ghiaccio e neve e non ci faccio nulla allora dovrei cercare sicuramente un po di pietra così facciamo un attimo un upgrade dei nostri attrezzi e poi mi servirebbero delle pecorelle per farmi un letto prima che arriva la notte e io muoio malissimo come mia abitudine ok qua ci abbiamo un po di pietre iniziamo a prenderle subito mentre prendo le pietre vi racconto quello che è successo in questi due anni di assenza in pratica con il covid ragazzi sono successe tante cose aziende che chiudevano quindi mi sono dovuto anche io adattare la situazione anche perché molti miei clienti hanno chiuso e quindi ho dovuto per forza ricostruire un po di pezzetti della mia vita ma penso che come l'ho fatto io l'hanno fatte molte persone alla fine per fortuna sono riuscito a rimettere in piedi i pezzi come vi dicevo c'è un nuovo lavoro adesso vivo a salerno sviluppo sempre software per questa azienda dove lavoro non ho mollato la mia azienda quindi c'ho ancora la mia bella partita iva con la quale sviluppo app e tutto quello che facevo prima solo che adesso la devo rimettere in piedi perché chiaramente sono stato fermo e giustamente non è che ci ho fatto molto tra tutti questi progetti di rinascita chiamiamoli così ci ho infilato dentro anche youtube ecco youtube ci infileremo dentro tutto quello che facevamo prima come ho detto all'inizio lo faremo con molta calma che carine le volpi da quanto tempo che non le vedevo lo faremo con calma però piano piano sono sicuro che riusciremo a fare tutto un igloo ma è un secolo che non vedevo un igloo allora nell'igloo se non mi ricordo male qua sotto mi ricordo male che stanno io mi ricordavo che qua sotto c'era una botola nascosta da qualche parte no vabbè intanto abbiamo preso il letto che schifo non ci fa mi prendo pure la fornace e guardate mi prendo pure una torcia io quasi quasi intanto qua è ancora giorno ok allora approfittiamo di questa casetta trovata per caso per fare qualcosa di utile qua dentro non c'è nulla io mi ricordavo tantissimo che negli igloo c'era una botola segreta che ti portava giù con un villager invece no no ragazzi confermo che in questo igloo non c'è nulla sarà stato un igloo sola che vedevo di allora a me serve un po di cibo perché io non ho ancora del cibo quindi mi servirebbe qualche animaletto da come dire depredare della propria carne fondamentalmente so che è brutto dirlo così però quello mi serve perché mi sto morendo di fame già non corro più che bello adesso morirò malissimo nel primo episodio che non sarebbe nemmeno una grande novità è mi capita abbastanza spesso di morire nel primo episodio bello questo che cos'è un canyon profondo bellissimo dove si muore c'è del carbone che potrebbe anche interessarmi oddio però io il letto ce l'ho se trovassi un po di cibo potrei un attimino prendere delle risorse tipo lì sotto che ne so un po di ferro e poi mettermi in cerca di un posto dove fare una bella base iniziare le nostre costruzioni piano piano espandere tutto fino ai confini dell'universo e con il tempo iniziare anche a mettere un po di redstone fare dei circuiti magari riprendere anche a fare i tutorial che all'inizio ne facevo un sacco di tutorial e questa mucchetta si è sacrificata di sua spontanea volontà per farmi mangiare però era una mucchetta solitaria c'era manco un'altra mucchetta no no c'era ok quelle vanno sempre a tre a tre per un attimo pensavo che fosse cambiata sta meccanica del gioco aspetta mucchetta ok allora abbiamo preso tre mucchette io direi di dormire così alla ghiaccio proprio in modo che facciamo passare la notte ci cuciniamo qualcosina velocemente con il legno perché non c'ho niente e poi magari possiamo infilarci sotto quel canyon che ovviamente mi sono già perso per cercare di fare qualcosa di utile tanto mi sbircio intorno ed ecco la nostra prima bistecchina ora mi rimetto anche l'inventario come ce l'avevo di solito di solito è spada torcia cibo piccone ascia e qualche altra cosa esatto beh vedi ancora mi ricordo qualcosina almeno come mettevo la roba quello me lo ricordo vogliamo questo che non consumiamo legno inutilmente anche se voglio dire di legno ce n'abbiamo quanto noi vogliamo quindi potrei anche consumarlo tutto prendiamoci le ultime fettine di carne eccoci qua molto gentile non vedo altre bestioline in giro da seccare fatemi un attimo guarda perché magari se ne becco qualche d'un'altra prima di infilarmi nel kenio ho visto le zampe pelose di una mucca se non mi sbaglio si era proprio una mucca allora io lo so che tu mi starei odiando adesso mica mia però purtroppo due pezzi di pelle ma una mucca ricchissima c'è altra gente non c'è nessuno non c'è nessuno vabbè facciamoci basta quello che abbiamo tanto voglio di devo semplicemente andarmi a prendere un po di ferro non è chissà che devo fare e la cosa che mi piace molto di questa versione nuova di minecraft con il cambio delle altitudini dei materiali dei minerali che hanno messo le caverne tutto quello che ce ne viene dietro è che da quello che ho capito adesso per trovare i diamanti per esempio c'è bisogno di andare a livello 10 e fare dei tunnel assurdi anche perché immagino che adesso non sia più il livello 10 quello dei diamanti però in questa versione del gioco puoi trovare i minerali esplorando le caverne visto che sono caverne enormi praticamente si può fare un'esplorazione vera e propria e i minerali li prendi stesso esplorando che sinceramente lo preferisco a fare quei tunnel enormi qui ero bravissimo cioè diciamo ce lo trovo una marea di diamanti però era un po palloso specialmente in fase di registrazione perché poi dovevi fare un sacco dettagli non è che potevi fare un video dove andavi dritto per un tunnel per dieci minuti era un po una palla diciamoci la verità invece adesso magari esplorando esplorando chiacchierando chiacchierando trovo i minerali registro pure che schifo non ci fa e siamo tutti quanti contenti ok mi prendo un altro po di legno giusto per e poi dovrei andare alla ricerca di quel canyon che avevo visto prima che ovviamente chi mi conosce si ricorderà il mio senso dell'orientamento fa schifo e quindi mi sono già perso non ho idea di dove stava quel canyon va bene sicuramente ne troveremo un altro dai non c'è problema in tutto ciò non mi sono ancora fatto una spada voi direte perché perché è più divertente cioè proprio il brivido dell'avventura no è che mi sono dimenticato la verità è semplicemente questa sto andando felicissimo proprio ma non trovo più quel canyon una grotta mi basta pure un buco per terra qualsiasi cosa dove mi posso infilare iniziare a scavare tu sei un buco che continua fai qualcosa di utile aspettate che vedo ok questo potrebbe essere un buco che continua o poter trovarci la morte e infatti potrei trovarci tranquillamente la morte qua dentro creeper va bene tanto c'ho una torcia non ho paura di usarla guardate la tiro addosso potrei infilarmi qui dentro per prendere un po di ferro e poi andarcene da questo posto schifoso e cercare qualcosa di meglio potrei ma forse non lo voglio fare no vabbè dai ci provo tanto voglio di non mi sarò mica dimenticato come si secca un creeper dovrebbe essere abbastanza semplice disse lui morendo malissimo infatti che li vedo anche un po ok si devo metterlo non è stata l'idea del secolo ma manco per niente anche perché quasi sta facendo una certa affluenza di gente quella è così che si raga che cosa cos'è questa c'è un numero mostruoso ok troppa gente però io non mi aspettavo una cosa del genere devo essere sincero ma bastardi maledetti io lo so cosa sto pensando adesso ma perché stai giocando così malissimo non riescono a salire c'ho l'impressione che loro riescono a salire creeper potresti esplodere così me li secchi tutti molto velocemente no vabbè ok facciamolo ok il creeper è morto qualcuno ogni tanto mi da delle mazzate ma non so chi sia ma poi li ammazzo tutti eh con calma mia mia ok ok attenzione vedo anche una patata non mi dire che si è una patata in teoria ciao ciccio è stato veramente un piacere abbiamo ammazzato tutti quanti abbiamo anche una patata che non è una cosa da poco cioè una patata all'inizio del gioco ti salva la vita io spero che voi vediate qualcosa non lo so allora intanto qua c'è del carbone che io prenderei selvaggiamente allora non vi nascondo che mi fa molto strano tornare su minecraft effettivamente è una cosa strana era un sacco di tempo che non ci giocavo prendiamoci pure quest'altro carbone qua che il carbone non è mai troppo ragazzi il carbone è l'oro all'inizio allora vediamo qua dove si va io mi sto già perdendo malissimo lo so qua non c'è nulla io cerco solamente un po di ferro non è che voglio chissà che cosa un po di ferro e basta però non c'è del ferro potrei farmi delle torce stavolta delle vere torce no le redstone torch facciamo così o la perfetto siamo quasi a livelli normali la doccia ce la siamo fatta prima abito qua sotto che c'è stato di bello nulla nulla più totale questo dovrebbe essere ragno sentito un ragno allora questo lo secchiamo malissimo perfetto questo qui è rame se non erro si rame vabbè non ci interessa il rame al momento e lì in fondo vedo del ferro riusciremo a prendere il ferro senza morire malissimo e non nello benché minima da sento dei regnetti malefici tutto molto inquietante ve lo giuro ok andiamo a prenderci quel ferro dai facciamo una cosa rapida e poi se ne andiamo da qua perché sto posto non è che mi piaccia più di tanto come bioma stavo per guardare in faccia un enderman e sarebbe stata la morte ma proprio la morte non guardare l'enderman amico mio cammina a occhi bassi perché la regola d'oro ne le caverne occhi bassi occhi bassi anche un po il profilo basso questo è un altro po di ferro ma se pensavo di trovarne molto di più l'arrivano zombetto tutto molto carino nel mentre che lui fa la strada per arrivare visto che sono lenti secondo me questi me li prendo infatti questo ancora lì che sia proprio in quel ragazzo sia proprio attenzione sarebbe il caso di mangiare non ciò armatura non c'ho la spada poi se non mangio manco alla fine se muori con chi te la vuoi prendere con nessuno allora continuiamo questa esplorazione in modo molto selvaggio non vedo del ferro non è vero sta qua il ferro quanto ce n'è ce n'è un bel po dai bel po di ferro che noi ce lo prendiamo subito e poi ce ne usciamo non vedo l'ora di uscire da questo buco e giuro non mi sento per niente a mio agio qua dentro ma manco un po ok mettiamo un po di torce qua c'è qualcosa che continua non continua vabbè quanto ferro abbiamo preso 12 pezzetti di ferro secondo me per iniziare vanno più che bene quindi adesso cercherò di uscire da questa trappola mortale anche molto velocemente direi siamo arrivati da qua al libido della luce anche un creeper ovviamente cioè ti pare che io mi salto l'incontro con i creeper no assolutamente no io e i creeper proprio siamo una cosa non mi sta seguendo mi sta seguendo forse sarebbe il caso di spostarsi velocemente qui ecco vediamo se mi sta seguendo ancora è un creeper maledetto proprio cioè è un creeper dall'intelligenza solo umana cioè mi sta seguendo all'infinito sta ancora là sotto dov'è magari mi buco ok va bene va bene porca zozzeria ok forse è riuscito ad uscire da questo buco non ne sono molto sicuro ci sto provando tantissimo lì c'è del ferro e forse lì c'è l'uscita ora io potrei provare a prendere quel pezzo di ferro secondo me ci potrei provare tantissimo tanto questo è un creeper cosa vuoi che possa mai farmi un creeperino molto semplice due colpetti ed è morto ok qua c'è dell'altro ferro andiamo sempre con calma cerchiamo l'uscita come inizio mi aspettavo qualcosa di molto più rilassante devo essere sincero però minecraft è così ci rivela sempre un sacco di bellissime sorprese e quindi noi ci arrampichiamo piano piano verso l'uscita quell'enderman lo vedo un po' incazzoso ma io non l'ho guardato no si è incazzato di suo così è un enderman un po' strano mi metti dei blocchi a portata di ma grazie così almeno me ne posso salire tranquillo allora come al solito tecnica millenaria per uscire dalle grotte scava in su e via ok è notte allora prima di andare fuori che la notte brutta fa paura ci sono mostri strani io una dormitina qua me la farei beh abbiamo dormito è giorno perché ci fa molto piacere siamo di nuovo all'aperto allora ragazzuoli questo bioma non mi piace ora abbiamo due alternative che si aprono di fronte a noi o è quello di saltellare felici finché non cambiamo il bioma oppure prendere la barchetta e andarcene io sarei molto più propenso a fare la seconda cosa sinceramente però voglio da un attimino di fiducia a questo bioma o mio dio no il nano malefico non for quanto li schifo eccolo qua sono scappato in un modo abbastanza abile dal nano malefico è morto ho ritrovato il canyon di prima e ma questo che non è troppo inquietante non ci andrò mai e quindi andiamo a cercare dell'acqua possibilmente un oceano qua c'è tutta roba strana ragazzi sono bloccato questo bioma c'ho questo sentore assassino qua è tutto ghiaccio cioè io la barchetta qua dove la uso allora lì in fondo vedo forse la via di fuga non lo so non penso non mi sembra proprio odio intanto so che ne troverò milioni strada facendo però intanto sapete che vi dico io un po di sugar cane me le prendo perché queste sono utili ci facciamo la carta ci facciamo i libri e forse anche qualche altra cosa ho visto da qualche parte una zattera ma non mi ricordo se si fa con queste con le canne da bambù non so nulla come dicevo non so assolutamente nulla ho sbirciato ogni tanto le novità di minecraft di snapshot queste cose qua però sinceramente non è che ho approfondito la cosa allora io cercherei un modo per uscire questi sono gli alberi nuovi che non mi ricordo mai come si chiamano come vi chiamate alle azalee giusto quindi questo legno no questo legno normale niente scherzato pensavo fossero quei quegli alberelli che crescono nell'acqua che c'hanno il legno rosa l'ho visto una volta l'ho visti sti cosi da qualche parte però non era questo il caso solitamente in questi casi la soluzione salire in alto e vedere intorno cosa c'è e penso che sia quello che devo fare quindi adesso salirò su una montagnella mi sbircio intorno giusto per capire in che posto sono finito perché ripeto questo bioma non mi piace tantissimo è sinceramente tenere quelle lande ghiacciate la vicino non è proprio il massimo quindi ora tranquillamente ci arrampicheremo e andremo a vedere dove cavolo siamo finiti intanto la mucchetta fa sempre tanto piacere io lo so che tu mi guardi con gli occhi speranzosi però purtroppo amica mia io appena iniziato a giocare quindi devo ucciderti se invece avessi iniziato a giocare già da un bel po ti avrei deciso lo stesso però sono dettagli tecnici trascurabili direi decisamente trascurabili ok continuiamo a farci questa scalata epica sono arrivati che c'è sta qua sopra perfetto il nulla cioè foreste a perdita d'occhio io come me ne vado da sto bioma non posso fare una barchetta devo andarmene a piedi devo farmi chilometri e chilometri di corse saltellando con un pazzo e c'è tutta sta voglia cioè te lo giuro non ho tutta questa fantasia ok è questo è il metodo più rapido per morire delle pecore delle bacche che potrebbero essere la mia fine se ci vado sopra sarebbe veramente umiliante morire per le bacche ma che cosa c'è ho altre sugar cane così a muzzo che io me le prendo molto volentieri e adesso ci dirigiamo verso quel piccolo greggio di pecorelle stanno per immolarsi di loro spontanea volontà ve lo giuro per la mia sopravvivenza guardala come mi aspetta guarda è uno e ce la prendiamo tantissimo e anche questa ce la prendiamo tantissimo la terza è salvata la lascerò libera ok un po d'acqua un villaggio un bellissimo meraviglioso fantastico villaggio che svolta completamente questa serie perché io nel villaggio mi posso accampare posso prendermi un po di risorse srubacchiando quella che carino questo villaggio non resterò nel villaggio ovviamente però almeno voglio di è un ottimo punto di inizio cioè vedi già c'è le zucche c'è questo coso che non mi ricordo più come si chiamava il compost giusto allora iniziamo ad esplorare questa casetta un letto e il nulla assoluto uh c'è il ripere questo coso qua che come si chiamava che cos'era il greenstone giusto non mi ricordo manco più a che serviva c'ho un vago ricordo gli incantamenti toglieva gli incantamenti non lo so non lo so ragazzi allora intanto visto che stiamo in un villaggio e ci possiamo un attimino rilassare io direi di farci degli attrezzi in ferro però per fare gli attrezzi in ferro devi avere il ferro nel senso il ferro da già smeltato quindi buttiamo sta roba qua dentro il carbone l'avevo preso ma giustamente l'ho usato perché sono furbo sono molto furbo quindi per il momento ci metterò questi qui c'è tanto di legno ce n'è chi se ne frega usiamo il legno ok smeltiamo un attimo sto po di ferro cuociamo un po di roba da mangiare e poi vediamo cosa dobbiamo fare allora mentre aspettiamo che il ferro si smelti intanto io farò un uso spropositato di questo libricino proprio perché non mi ricordo niente e invece da qua io posso avere tutte le ricette che voglio in base all'oggetto che trovo e inoltre vi dirò che pensavo di far uscire in base al tempo ovviamente almeno due episodi a settimana per iniziare niente di sconvolgente non so ancora che giorni usciranno poi vi aggiorno ora è tutto in fase di sperimentazione faremo un po di esperimenti però almeno due episodi a settimana sono sicuro che riesco a farli uscire momentaneamente poi integreremo anche con altre cose non vi preoccupate però per iniziare due bastano che avanzano allora abbiamo un po di ferro quindi direi sicuramente di farci un bel picco nazzo di ferro una bella ascia di ferro che schifo non ci fa e ovviamente finalmente mi farei anche una spada perché ci sta dai ottimo tutto quello che non ci serve lo buttiamo da qualche parte tipo qua dentro quindi questo non ci serve questo non ci serve per il momento questa roba qua non mi serve assolutamente a nulla oppure la non la voglio lana tappeti non mi frega niente di niente di nessuno mi tengo giusto le cose che potrebbero avere una parvenza di utilità qua stiamo continuando a smeltare ferro poi cuociamo pure sta robetta così non muoio di fame e direi poi di andare ad esplorare il villaggio qui abbiamo finito cuociamo anche queste ok abbiamo smeltato tutto abbiamo cotto tutto stavo per cuocere anche l'unica patata che ho non sarebbe stata una bella idea sinceramente ok continuiamo l'esplorazione della crafting table me la prendo perché all'inizio sai che ho un po di fame in giro quindi non mi va di lasciare cose utili ho visto un gattino bellissimo questo sembra proprio il mio gatto è proprio quella macchia ok allora ho una chest cosa c'è qua dentro vabbè patate già ce l'ho però buono buono mi porto anche una chest guarda giusto perché voglio approfittare della gentilezza di questi villager che si sono offerti spontaneamente mi prendo pure questo mi prendo pure una zucca tanto per avercela non ci faccio mai niente con le zucche o invece qua che cosa abbiamo di bello vabbè se metti grano cos'altro c'è grano grano delle canate ci sono delle canate sono buone c'era gana volta che ti fai loro con le carote spero sia ancora così ovviamente uno si faceva le carote d'oro che erano un cibo super mega fantastico intanto sta ricalando la notte di già quindi io ne approfitterei dormo di nuovo voglio dire chi è chi di voi non va a dormire con una fornace in mano cioè è proprio la moda perfetto dicevamo continuiamo ad esplorare un po questo villaggio andiamo in queste casette qua un attimino in dispare un campfire che bellissimo questo me lo prendo proprio tanto ha già si sfascia vabbè niente scherzato qua dentro questo è bellissimo era lo stone cutter se non mi ricordo male basetto non me ne può fregare meno anche poi in teoria dovrebbe esserci pure qualcosa che riguarda l'archeologia in questa versione di minecraft forse non lo so comunque incredibile come mi perdo e c'è l'orientamento proprio di una moffetta morta cioè io infatti qua già c'è lo stato vedete io quando dico le cose non è che scherzo veramente c'ho un senso dell'orientamento pessimo vediamo qui che cosa sì dove cavolo si entra abilinto acqua già c'era appena stato perfetto sì sì ragazzi sono decisamente tornato vedete lo stile è proprio quello io che gironzolo come un pazzo mi perdo le cose allora questo è molto interessante vabbè queste ce le prendiamo perché per simpatia e intanto ci possiamo anche inizia a mettere qualche pezzetto d'armatura che schifo non fa anzi questa cosa io non la sapevo che esisteva tu vieni subito da me cioè posso fregarmi che cosa sta succedendo maledetto campfire maledetto dicevo questa cosa è molto interessante mi posso prendere questo pezzo d'armatura così cioè ragà mi sono fatto full ferro gratis praticamente gratis oh mi sento molto più tranquillo adesso però io me lo prenderei questo manichino non è la cosa più fondamentale del mondo all'inizio però intanto c'è me lo prendo chi se ne frega vediamo un po qua che cosa ci sta senti mi sono rotto le palle di fare il giro io sfascio tutto allora altre patate abbiamo capito che le patate non mancano questo è lo spruce non ce ne frega niente pane ce lo prendiamo c'è il charcoal già dai ci devo fare questo cosa vediamoci un po sta roba o vedi queste sono le blast furnace se non mi ricordo male su quelle per smeltare i materiali velocemente qua dentro che c'è stato c'è stato mi ricordo faccio tutto mi sento un po così c'è l'ho già stato va bene qua c'è un'altra casetta con due porte che ci sta qua dentro nulla più totale sento dei rumori strani buongiorno tu sei senza lavoro poverino ragione un altro stone cut che me lo prendo molto volentieri la c'è il golem se c'è il golem e di solito c'è qualche altra cosa e infatti ci sono la campana che ovviamente mi prendo mi sto prendendo le cose più inutili del mondo per iniziare a giocare però vabbè quell'istinto della prima partita che è proprio qualcosa di carino che stai non ti puoi craftare al momento istantaneamente troverò questo è il cartografo me lo prendo pure e basta però se continuo a prendere roba c'è una cesta con altro pane della carta che non mi serve a nulla è un compasso a bussola che potrebbe pure servirmi ho finito lo spazio nell'inventario giustamente facciamo un po di pulizia e continuiamo la nostra esplorazione liberiamo questa pecorella poverina che sta qua chiusa il loom questo è il telaio per fare il banner se non mi ricordo male e poi dov'altro andiamo niente penso di aver visitato più o meno tutto forse ok ragazzuoli io direi che ci possiamo pure fermare qua per questo episodio spero che questo ritorno vi sia gradito io vi do appuntamento alla prossima puntata e buona serata a tutti ciao ragazzi